Vi sembra di subirle? La via della conoscenza attraverso Attilio M. vocedellacuiete.vaglianochiocciola.gmail.com Soggetto Il solo immaginare un mondo come questo può far perdere i riferimenti con il mondo per voi dentro cui vi siete creati solidità e continuità per proteggervi contro ciò che emerge e che molto spesso vi appare diverso da quello che vorreste Altre volte addirittura temibile Voi vi difendete dalle incognite della vita perché vi sembra di subirle e quindi male sopportate Non capendo che a volte maldestramente voi stessi le esasperate rivolgendole contro di voi L'accadere bussa è voi Se vi è possibile vi sottraete tentando in tutti i modi di ritradurre in cibo per la vostra mente quel mistero che testimonia l'esistenza di altro da voi Tutto ciò che accade è altro da voi È un'offerta che giunge attraverso la vita in modo del tutto casuale ed estraneo ai vostri perché, ai chi, ai quando ed ai come attraverso i quali riferite tutto a voi creandovi i vostri significati Quello da cui vi difendete è la gratuità cioè il modo del tutto immotivato con cui la vita si offre Stiamo parlando dell'unico possibile atto d'amore che si ripete da sempre a vostra insaputa e che vi trascende Un amore gratuito che non pretende ristabilire il punto da cui partire e dove fermarsi ma scorre e tutto attraversa Ed ora una precisazione Nella via della conoscenza vita, gratuità ed amore sono intrinsecamente uniti e perciò nessuno di essi può essere considerato a sé Comunque Verranno necessariamente articolati in tempi successivi Anche se sarà possibile ritrovare un qualche aspetto dell'uno e dell'altro in ognuno dei diversi capitoli Noi vi diciamo che non è possibile comprenderli senza riconoscere che tutto ciò che si presenta è comunque vita è comunque gratuità ed è comunque amore Una qualsiasi distinzione concettuale fra amore, gratuità e vita è puramente ingannevole Grazie a tutti Grazie a tutti